Pensavamo di averne viste di tutti i colori in campagna elettorale, trolley, aerei, furgoni, megafoni, ma un tir che andasse in giro per la città è assolutamente una novità. Benigno Dorazio, come ti è venuta in mente questa idea? Perché l'ha fatto? L'avevamo visto l'anno scorso in scena, poi siamo stati anche fortunati perché aveva già un contratto fatto con un altro partito, si è rotto quel contratto e l'ultima settimana siamo riusciti a prenderlo noi e credo che sia stata la novità più eclatante di questa campagna elettorale. Cosa accade su questo tir quotidianamente? Noi l'abbiamo chiamato il tir della libertà perché dall'idea della forza e il bisonte della strada, ma anche della tranquillità per garantire il voto più libero e spontaneo ai cittadini. Qui sopra noi facciamo i comizi, c'è anche la musica, facciamo rivedere i dibattiti che grazie a voi abbiamo fatto con gli altri candidati sindaci che soprattutto il sindaco uscente si è sempre sottratto a fare, quindi grazie alla televisione facciamo vedere i dibattiti, è diventato un momento di grande festa dovunque andiamo, la mattina veniamo nelle varie zone, oggi siamo nella zona industriale e poi la sera ci sono le manifestazioni, i comizi, i dibattiti e poi si conclude in genere con un po' di musica e un po' di cantate un po' per tutti. E se dovesse andare a Palazzo di Città lo parcheggia sotto? Ma se dovesse andare a Palazzo di Città con questo tir vorrei fare Pineto in musica, quella bellissima manifestazione che si faceva qualche anno fa, che è stata tolta da questa amministrazione e che invece era l'orgoglio e il vante della città. Con questo tir magari ci piazzeremo vicino ai bar della città e riprenderemo quella bellissima tradizione che costava tanto poco ma era così fruttuosa per i pinentesi. Grazie.